Non so più a chi chiederlo, contra San Paolo ma anche contra Lioi e Ponte San Paolo che sono costretta a percorrere tutti i giorni in auto per tornare a casa è diventata una vera sofferenza a percorrere perché è una buca continua. Inizia così la segnalazione di Gabriella, una nostra telespettatrice, che ci ha segnalato con una mail indirizzata a vicenzachiocciolaretteveneta.it lo stato di degrado in cui versano le strade alle spalle di Piazza delle Erbe. Ho appena dovuto cambiare le sospensioni della mia auto e la schiena è peggiorata paurosamente, precisa Gabriella. A chi devo chiedere i danni, caro sindaco? Aspetto un riscontro e da troppo tempo che questa contrae così. Non trova che sia arrivato il tempo di provvedere, conclude? Noi siamo andati sul posto a verificare la situazione che noi di Rete Veneta avevamo già descritto in precedenti servizi e a raccogliere anche altre opinioni. Sì beh, è una bicicletta che usiamo da lavoro, che passiamo tante volte in bicicletta e rabbaltarsi con le bosse eccetera, ci vuole un attimo insomma, ecco tutto lì. Ci sono varie buche e anche tombini sporgenti che magari se li prendi male potresti cadere? Sì, certo che è pericoloso, nel senso che è tutta sconnessa, ci sono i ciotoli che vengono su, io mi trovo qualche mattina anche qualche ciotolo nel marciapiede, questa è contra Ponte San Paolo che è di là, è molto molto pericolosa per le biciclette e anche per chi passa, le persone anziane, caviglie, roba, è un disastro secondo me. Effettivamente la situazione di degrado della strada è evidente, sappiamo anche quanto sia complesso l'intervento sul selciato pavimentato a Porfido nel centro storico, noi comunque porteremo anche la segnalazione di Gabriella a chi di dovere, quindi non finisce qui ma continua.